Amici di Oreca Focus, bentornati. L'approfondimento di oggi torna a parlare dei prodotti Alto Sham, l'azienda statunitense che realizza attrezzature per la cottura di alimenti con oltre 60 anni di storia e presente in tutto il mondo con oltre 500 collaboratori. E naturalmente, come promesso, nel corso del nostro ultimo incontro non poteva mancare la direttrice vendita Europa dell'azienda, Francesca Lacchiusa. Bentornata Francesca! Grazie Fabio, è un piacere essere qui con voi. Allora, quali sono gli specialisti che ti accompagnano oggi nel percorso formativo ai clienti che acquistano le vostre attrezzature? Oggi sono in ottima compagnia. Adesso cominciamo con Walter. Salve! Ciao Walter, bentornato! Grazie! Io sono Walter e sono lo chef esecutivo per Auto Sham per Europa. Anche in questo caso, Francesca, non sei accompagnata solo da Walter. No, adesso vi presento Gabriel, Chef Gabriel. Ciao! Che si occupa del Medio Oriente. Ciao Gabriel! Poi abbiamo Chef Florian, che si occupa del mercato della Germania. Ciao Florian, benvenuto! E poi abbiamo una signora, ma una chef di tutto rispetto, Chef Nathalie dalla Francia. Buongiorno Nathalie, benvenuti! E poi mi fa piacere averli tutti insieme per farvi vedere che siamo una squadra veramente internazionale e che ci teniamo, come dire, a lavorare tutti insieme in una squadra vincente. Francesca, la tua è una squadra collaudata ed estremamente affiatata. Ma ora, veniamo al motivo per cui oggi ci stiamo incontrando in questo appuntamento di approfondimento di Horeca Focus. Oggi, Francesca La Chiusa ci parlerà delle principali caratteristiche di alcune delle attrezzature professionali che rendono i prodotti Auto Sham assolutamente unici. Iniziamo con i forni girarrosto, ideali per le esigenze più ricercate di ristoratori, gastronomie, macellerie, supermercati e tante altre tipologie di attività nel settore della preparazione di alimenti. Quali i suoi vantaggi, Francesca? Il vantaggio di utilizzare i girarrosti Auto Sham in realtà sono molteplici. Primo fra tutti è quello del lavaggio automatico e il sistema di raccolta grassi automatico sul modello AR7T che è studiato per essere facile da utilizzare e soprattutto sicuro per tutti gli operatori. Abbiamo un pulsante che permette all'operatore di far ruotare i dischi per poter caricare gli schiedioni ed i cestelli in multiuso. Inoltre abbiamo due cicli di lavaggio uno con il detergente liquido quindi l'operatore non deve toccare assolutamente il detergente perché viene iniettato automaticamente e l'altro invece con le tabs. Il primo lavaggio dura solo 30 minuti ed è senza aggiunta di nessun detergente quindi durante il servizio l'operatore al momento in cui ha terminato il primo ciclo di cottura o il secondo ciclo di cottura può semplicemente fare questo lavaggio rapido. A fine giornata invece può semplicemente azionare il sistema di lavaggio detergente quello a fondo che dura tre ore e che praticamente permette all'operatore di premere un pulsante e tornarsene comodamente a casa. Chi non desidera avere un forno come questo nel nostro settore. Inoltre nel nostro sistema di lavaggio non abbiamo componenti che possono deteriorarsi all'interno della camera pertanto come dire dal punto di vista anche della manutenzione questo è decisamente molto importante. è possibile salvare fino a 18 ricette e dare colorazioni diverse fino a 6 livelli sul prodotto pertanto i pulli possono avere anche colorazioni diverse. La tecnologia viene data dalla combinazione della confezione quindi la ventilazione all'interno della camera e le resistenze superiori che danno questa doratura interessante sul prodotto finale che come dire alletta gli appetiti di chi vede il prodotto all'interno della camera del forno. Parliamo ora degli espositori caldi una gamma di prodotti particolarmente adatta al comparto della ristorazione veloce e in particolar modo dei take away. Esattamente il settore del take away sta crescendo in modo esponenziale anche in Italia e durante la pandemia è diventato un master per tutti gli operatori che hanno ampliato l'offerta del loro menu. Sia che si tratti di un operatore che ha un unico store di una catena di ristoranti o di supermercati Alto Sham ha la soluzione giusta per poter mantenere i cibi cotti senza perdere la qualità grazie, vi ricordo, all'esclusiva tecnologia Alto Sham che si chiama Alloit di cui abbiamo parlato nella precedente pillola i nostri espositori caldi permettono di mantenere non solo la carne e i polli ma le verdure, le pizze, i sandwich, i nuggets e tanto altro ancora per ore senza deteriorarli all'interno del loro packaging sono personalizzabili e permettono anche di impostare temperature diverse per ogni ripiano Della stessa linea fanno parte anche le vetrine riscaldate di Alto Sham in cosa differiscono dagli espositori caldi? La particolarità delle nostre vetrine calde è la mancanza assoluta di condensazione sul vetro nonostante il calore e l'umidità del cibo cotto che viene esposto sulla base delle vetrine troviamo infatti le resistenze Alloit e quindi è interessante perché gli operatori non devono maneggiare l'acqua calda o il vapore e tutte le problematiche relative ovviamente all'acqua compreso il calcare pertanto è molto interessante rispetto a una vetrina tradizionale La conservazione del cibo una volta cucinato vede nelle attrezzature che realizzate un prodotto con una tecnologia all'avanguardia sto parlando delle basche a bagnomaria senza acqua i famosi food wells Esatto i nostri bagnomaria con la tecnologia Alloit infatti non necessitano di acqua pertanto ancora una volta i vantaggi di utilizzarli sono molteplici la sicurezza per gli operatori che non devono maneggiare acqua calda o vapore le problematiche relative al calcare i costi dell'installazione e ovviamente anche il consumo d'acqua offrendo soprattutto un prodotto caldo di qualità sempre Francesca, puoi illustrarci quali sono i benefici dell'acquisto dei prodotti Alto Sham grazie alla tecnologia 4.0? Assolutamente il nostro Cloud ChefLink il Cloud ChefLink permette ai nostri clienti tramite dispositivi digitali come il PC di poter gestire le nostre attrezzature con i comandi deluxe sul Cook & Hold, gli affumicatori e sul Vector queste attrezzature infatti rispondono ai requisiti di Industria 4.0 e pertanto se sono collegati tramite internet permettono di usufruire del credito di imposta fino al 50% Bene, Francesca, ringrazio te e tutto lo staff che ti ha supportato per questa diretta ci vediamo prestissimo Grazie a te Fabio, grazie a tutti quanti e chi prova a Tushan non cambia